Proficuo incontro, dice l'europarlamentare Alessandro Panza, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega e consigliere per la montagna del ministro Roberto Calderoli quello avvenuto martedì 13 febbraio, tra il ministro e la delegazione di rappresentanti delle guide alpine. Presenti al Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie, Martino Peterlongo, presidente del Collegio Nazionale delle Guide Alpine e Fabrizio Pina, presidente del Collegio Abbonati a soli 9,90 euro all'anno. Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.